La Rino Covid Hospital Il commissario incarica la struttura amministrativa dell'ASREM di redigere un piano per il Vietri. La notizia diffusa dal segretario del PD Facciolla, tempo scaduto per chi ha giocato a nascondino. Devastato il centro down di Campobasso, i ladri portano via un costoso PC, ma lasciano un'impronta sul posto la polizia scientifica. Indagine sierologica sul coronavirus. La Croce Rossa ha contattato 3.000 dei 5.000 molisani selezionati dall'ISTAT. 200 i prelievi eseguiti dall'ASREM negli 11 punti presenti sul territorio. Intanto, sesto giorno con zero contagi, Florenzano al Veneziale di Isernia, sicurezza rafforzata. Godersi il benessere con la massima sicurezza è possibile. Domani riapre il centro Messeghedi Castelpetroso, tra le novità massaggi all'esterno e la piscina Idrozen. Basket, innesto top nel roster della Magnolia, in cabina di regia Valentina Bonasia, la playmaker di Sulmona, arriva da Lucca, squadra di A1. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati all'appuntamento in diretta, come sempre con la nostra informazione. Lo avete sentito nei titoli, oggi in apertura c'è la cronaca con questa inchiesta della Guardia di Finanza di Foggia, inchiesta antidroga, che ha visto l'esecuzione di sei misure cautelari, tre in carcere, tre ai domiciliari. Tra gli arrestati c'è un giovane di Campobasso, perché le indagini si sono concentrate sul traffico di droga Lucera-Campobasso. Sentiamo. Gli uomini della Guardia di Finanza di Foggia hanno eseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale della provincia pugliese, nei confronti di sei persone, tre in carcere e tre ai domiciliari, responsabili a vario titolo e in concorso tra loro di detenzione finalizzata allo spaccio di droga e detenzione abusiva di armi, nonché di armi clandestine. L'operazione è il frutto di un'articolata attività di polizia giudiziaria della tenenza di Lucera, che ha disarticolato un gruppo criminale composto da cittadini italiani che gestivano lo spaccio di cocaina ed eroina sull'asse Lucera-Campobasso. Tra le persone arrestate e confinate ai domiciliari, anche un giovane 25enne di Campobasso, che abita in un popoloso quartiere della città. Un lavoro d'indagine lungo sei mesi che ha permesso di monitorare numerosi viaggi verso il Molise, che gli indagati, anche avvalendosi di corrieri occasionali, come dimostrato fra l'altro dalle numerose operazioni di polizia condotte in questi ultimi tempi, facevano soprattutto verso la provincia di Campobasso. L'altolà dunque questa volta arriva anche dalla vicina Puglia, rispetto al consumo smodato di sostanze stupefacenti che si fa nella nostra realtà territoriale. È stato particolarmente difficoltoso, anche in questo caso, come per piazza pulita dei carabinieri di Campobasso, intercettare le cessioni di stupefacenti a causa dei movimenti prudenti dei sodali, volti ad eludere i controlli delle forze di polizia. In uno dei tanti controlli su strada, i militari hanno fermato sulla 17 due corrieri del gruppo criminale, partiti da Lucera e diretti a Campobasso. Trasportavano oltre 100 grammi di eroina e 15 di cocaina. Anche in questo caso, entrambi i soggetti sono stati arrestati e associati al carcere di Foggia. Complessivamente sono stati denunciati, nell'ambito dell'operazione Fake Cars, 20 soggetti e sequestrati più di 1,6 kg di eroina purissima, 70 grammi di cocaina, 19 kg di sostanze da taglio, poi armi e munizioni. I finanzieri, inoltre, hanno passato al setaccio tutte le posizioni reddituali e patrimoniali dei sodali, scoprendo che tra i soggetti sottoposti a misura cautelare personale, il capo del gruppo criminale beneficiava del reddito di cittadinanza, mentre un altro componente aveva da poco presentato la richiesta per beneficiarne. Entrambi sono stati segnalati all'Inps ai fini della sospensione della prestazione sociale, come previsto dalla legge che ha introdotto nel 2019 questa forma di sostegno al reddito. Torneremo ad occuparci di cronaca nel corso del nostro telegiornale. Ora però parliamo di sanità. La Rino Covid Hospital Giustini non demorde. Il commissario del commissario incarica la struttura amministrativa del Lasrem di redigere un piano per il Vietri. La notizia è stata diffusa dal segretario del PD Facciolla, che dice tempo scaduto per chi ha giocato a nascondino. Centro Covid a Larino, Angelo Giustini non molla. Il commissario ad acta per la sanità in Molise ha incaricato l'Asrem di redigere un piano dettagliato per costituire un centro Covid presso l'ospedale Vietri di Larino. A darne notizia il segretario del PD Vittorino Facciolla, questo è un sogno per il Basso Molise che finalmente potrebbe realizzarsi, dice il consigliere regionale, un centro di malattie infettive interregionale, tra l'altro finanziato con fondi straordinari provenienti dal MEF o dal Recovery Fund, che potrebbe dare prospettive a questa terra per un periodo lunghissimo. A questo punto Donato Tome, Oreste Florenzano, continua Facciolla, non possono più nascondersi ognuno per le rispettive competenze e se il centro Covid di Larino dovesse naufragare sarà esclusivamente per loro diretta responsabilità. Ma sbrogliare la matassa non sarà facile e sì perché sia la Regione che l'Asrem portano avanti altre soluzioni. Nel breve termine i moduli prefabbricati all'esterno del Cardarelli stile Napoli e nel medio-lungo termine destinare invece ai pazienti Covid un intero padiglione del nosocomio Campobassano. Di contro Giustini spinge per Larino, se è così, aggiunge ancora Facciolla, il Presidente Toma dovrà venire a dirlo in Consiglio regionale che la sede naturale è preposta a fare scelte che riguardano la salute di tutti i cittadini morisani. Infine il Segretario Dem anticipa una mozione urgente che nel ridare centralità al Consiglio regionale quale soggetto preposto agli atti di indirizzo politico faccia esprimere lo stesso sulla realizzazione del centro di Larino così da consentire un primo passo in direzione della riorganizzazione dell'offerta sanitaria efficiente ed efficace. il tempo conclude sta per scadere anche per chi sino ad oggi ha giocato a nascondino. Prima tappa sul territorio in Molise dopo il lockdown in una comunità di recupero. La droga, ha detto Salvini a Teleregione, va combattuta paese per paese. Nell'intervista che andrà in onda stasera alle 22.40 anche uno spot per il Molise e le sue bellezze e lo scenario nazionale. Se in autunno PD e 5 Stelle continueranno a litigare meglio il voto. Appena finito il lockdown Matteo Salvini torna sul territorio e lì che capisce i problemi non da Roma, dice nell'intervista rilasciata a Teleregione in occasione della tappa a Rio Nero-Sannitico nella comunità di recupero la figlia di Sion sul territorio e in una struttura che aiuta contro le dipendenze. La droga, al centro dell'ennesima importante operazione della procura distrettuale di Campo Basso qualche settimana fa, è per il leader della Lega un virus peggiore del Covid. Purtroppo in Parlamento c'è chi parla di droga libera, di gioco d'azzardo ovunque scherzando con la vita degli italiani e soprattutto dei nostri figli. La droga era, è e rimane una bestia da combattere. È un virus strisciante che ahimè sta aumentando i morti, le vittime, le dipendenze quindi in qualunque regione italiana io vado, cerco sempre di andare a ringraziare i volontari, i terapeuti, i medici e i ragazzi ospiti delle comunità di recupero perché la droga è una bestia che per quello che mi riguarda va combattuta paese per paese, città per città. Prima tappa in Molise dunque perché, dice, è spesso dimenticato dalla politica della capitale. Ci sono i temi legati alla giunta regionale nell'intervista ma anche uno spot attualissimo in vista dell'estate più difficile della nostra storia recente. Molise a posti stupendi, non ci vogliono in vacanza in Grecia, non ci vogliono in Spagna, non ci vogliono in Austria, peggio per loro. Noi abbiamo il mare più bello del mondo, i territori e le città più belle del mondo vorrà dire che chi potrà permettersi qualche giorno di vacanza quest'anno come mai in precedenza starà in Italia e quindi evviva le bellezze del Molise, con tutto il rispetto non abbiamo bisogno di andare a mendicare, di farci ospitare in altri paesi del mondo. E in autunno, a meno di una seconda ondata che tutti temono ma nessuno si augura, si terrà il referendum sul taglio dei parlamentari, un giro di boa decisivo per il governo Conte. Sicuramente se il governo deve continuare a litigare come sta facendo da settimane, perché stanno litigando oggi, ripeto, in aula sulla scuola e sulla giustizia, sul MES, sull'Europa, sul taglio delle tasse, sulle infrastrutture. Ricordo che in Italia ci sono 70 cantieri di grande opere fermi perché non si mettono d'accordo al governo fra PD e 5 Stelle. Io mi domando se quando saremo tornati alla normalità, siccome in autunno si voterà il referendum per il taglio dei parlamentari e quindi saranno chiamati a uscire di casa per votare tutti gli italiani e tutti i molisani, piuttosto che vedere un governo che va avanti a litigare, tanto vale restituire la parola e la libertà di scelta agli italiani. Salvini quindi è pronto a guidare il centro-destra, non teme la concorrenza di Fratelli d'Italia, anzi dice un vantaggio per la coalizione se anche gli alleati crescono. Forse Italia cresce meno di Fratelli d'Italia ed è anche oggi più morbida con l'esecutivo giallo-rosso. Sul punto Salvini taglia accordo. Ci sono due idee di Italia diverse. Noi abbiamo un'idea di Italia fondata sulla libertà, la libertà di impresa, la libertà di movimento, la libertà educativa, la libertà di culto, quindi taglio della burocrazia, via il codice degli appalti, regole, regolette, vincoli, 10.000 controlli per aprire un cantiere o aprire un negozio. Dall'altra parte c'è un'Italia fondata sulla CGL, sulla burocrazia, sullo strapotere dei sindacati, sulle lungaggini, sui 6.000 controlli. Quindi io penso che alla fine l'Italia abbia bisogno di libertà, di cantieri, strade, autostrade, ponti, porti, aeroporti, ferrovie, perché se non riparte il lavoro rischia di fare più vittime la fame e la disoccupazione di quante non ne abbia fatto il virus. L'intervista integrale a Matteo Salvini questa sera in una edizione speciale di Fuoco Incrociato alle 22.30 sul canale 10 di Teleregione. Ed ora invece occupiamoci dell'indagine sierologica sul coronavirus. La Croce Rossa ha contattato 3.000 dei 5.000 molisani selezionati dall'Istat, 200 i prelievi eseguiti dall'ASREM negli 11 punti che sono presenti sul territorio. 150.000 persone di ogni età, genere e area geografica sono state selezionate dall'Istat per l'indagine sierologica sul nuovo coronavirus. L'obiettivo? Conoscere meglio il virus. In Molise le persone coinvolte sono 5.243, 51 i comuni interessati. L'attività di call center è affidata alla Croce Rossa italiana, nello specifico alla Croce Rossa molisana, mentre gli esami, i prelievi e il processamento degli esami saranno a carico dell'ASREM. Noi come Croce Rossa italiana siamo stati impegnati nell'ambito della regione Molise, proprio come attività di call center, di poter contattare i cittadini nell'ambito della regione. Ad oggi abbiamo raggiunto circa i 3.000 contatti per i vari cittadini e pensiamo che in settimane riusciamo ad effettuare tutti i 5.243 contatti. Questa è la prima fase in cui la Croce Rossa è stata indicata di poter fare nel progetto nazionale per quanto riguarda la seroprevalenza a livello nazionale. Ad effettuare le telefonate ci sono 14 persone. Dopo un inizio diffidente i molisani hanno dato ampia disponibilità. All'inizio c'è stata un po' di diffidenza, ma poi grazie agli spot che sono stati inviati i cittadini, anzi addirittura hanno richiamato, pensando che sono stati chiamati su numeri diversi, hanno ricondattato il call center a livello nazionale e hanno chiesto se siamo stati condattati, vogliamo rifare? No, no, signore, tranquillissimi, chi non è stato contattato sarà ricondattato poi successivamente. Abbiamo avuto un bel riscontro. 11 i punti prelievo presenti sul territorio che funzionano a giorni alterni. L'Asrem ha fin qui processato 200 esami e riesce a soddisfare 50 richieste giornaliere. Non sono qui per chiudere le strutture, ma per implementare i servizi già esistenti. La sicurezza all'interno del Veneziale sarà rafforzata, lo ha detto Florenzano, oggi in visita a Isernia e sul Covid dal Vietri spiega disponibile a valutare ogni situazione, ma devo fare i conti con il budget. Il direttore generale della Asrem questa mattina ha incontrato il sindaco di Isernia, Giacomo D'Apollonio, a Palazzo San Francesco per un confronto breve ma proficuo sulla sanità pentra. Successivamente Oreste Florenzano si è recato in visita all'ospedale veneziale di Isernia per incontrare i vertici amministrativi ed i direttori del nosocomio isernino. Dopo i recenti episodi di cronaca, con l'aggressione ad un anestesista rianimatore prima e con l'attentato incendiario nel centro di senologia poi, Florenzano ha annunciato un rafforzamento della sicurezza all'interno e all'esterno della struttura. Innanzitutto vorrei dire che la visita è richiesta ma è anche fortemente evoluta da me. Era una cosa che avrei voluto fare sin dall'atto del mio insediamento, poi le circostanze me le hanno impedite. Per quanto riguarda la sicurezza stiamo valutando tutte le situazioni, quindi stiamo intervenendo su più fattori, sia come c'è sicuramente un rafforzamento del posto di polizia, abbiamo fatto un comitato per l'ordine della sicurezza pubblica tenuto dal prefetto e abbiamo concordato questo e quindi io ringrazio assolutamente tutte le forze di polizia. Ma poi interverremo sia con la nostra vigilanza, sia con la videosorveglianza e anche poi con dei corsi di formazione per la gestione dello stress e delle situazioni conflittuali. Florenzano ha anche voluto rassicurare il personale e gli utenti rispetto ad una tavica paura degli sernini, un eventuale ed ulteriore smantellamento del veneziale. Io non voglio smantellare l'esistente, io voglio anzi renderlo e potenziarlo e per potenziarlo faccio i conti con un bilancio che è quello che è, con delle risorse economiche che sono quelle che sono. Quindi la mia lotta principale è quella di avere delle risorse economiche adeguate per poter rilanciare queste strutture. Perciò a volte mi preoccupo quando penso che magari delle risorse possono essere impiegate per fare altro, che sicuramente è bello da ipotizzare e da immaginare, però ci distrae e ci toglie delle risorse per migliorare l'esistente. Intanto prosegue il dibattito sul piano sanitario e politico in merito all'individuazione di un centro Covid che sia diverso dal Cardarelli. Io sono un tecnico, l'ho ribadito più volte, mi è stato chiesto un parere tecnico, l'ho espresso insieme al mio staff, che è uno staff di persone competenti e con tanta esperienza. Ho anche cercato di rappresentare che le risorse che abbiamo è bene ed è opportuno utilizzarle per il potenziamento delle strutture. Ho paura, ma questa è una mia valutazione personale, che le risorse vengano poi dirottate in situazioni che poi non sono gestibili vista la grave carenza del personale, visto il necessario supporto economico per continuare a far funzionare queste ulteriori strutture eventuali. Quindi il senso del mio discorso è questo, ma non c'è nessuna polemica. Io sono un funzionario dello Stato e quindi sono nato così e così morirò. Ed è mio dovere eseguire le disposizioni e quello che si deciderà alla fine di fare. Quindi io non ho delle preclusioni di sorta. Sono anche un tecnico e quindi mi permetto di esprimerle. Infine non poteva mancare un riferimento ai contagi da Covid-19 in Molise. La situazione in questi ultimi giorni sembra essersi stabilizzata e ciò genera un moderato ottimismo. Per Florenzano è però indispensabile non abbassare la guardia. Diciamo che è un giudizio cautamente sereno. Siamo soddisfatti di come stanno andando le cose, ma non abbasseremo mai la guardia perché il virus ci ha insegnato che è molto complicato da gestire e non possiamo permetterci errori. E a proposito del virus, allora vediamo insieme l'ultimo bollettino dell'ASREM diffuso ieri sera che racconta, lo vediamo dai numeri, il sesto giorno consecutivo senza contagi. Dunque non si evincono nuovi casi positivi. Ci sono invece due guariti di campo basso, un guarito di campo chiaro, chiedo scusa, e poi c'è anche un dimesso, vediamo, da malattie infettive. Dunque al momento dall'inizio dell'epidemia sono 126 le persone che sono ancora positive al covid, dati che confortano e rasserenano rispetto al futuro. Questa sera ovviamente alle 19.30 nel corso dell'edizione aggiornata del telegiornale vi daremo il nuovo bollettino. e strettamente correlato al concetto di salute è quello di benessere e godere del benessere con la massima sicurezza è possibile. Domani riapre il centro Messeghe di Castelpetroso tra le novità massaggi all'esterno e la piscina idrozena. La salute e il benessere di ospiti e collaboratori è da sempre la loro priorità. Il centro Messeghe di Castelpetroso riapre le porte alla clientela e da domani sarà possibile accedere al day spa. Durante il lockdown si è lavorato su norme e protocolli di sicurezza lasciando inalterata la qualità dei servizi che da sempre contraddistingue il resort. La struttura parte da una situazione di privilegio grazie alla sua collocazione naturale lontana da ritmi frenetici e dal caos quotidiano. I ampi spazi outdoor e indoor hanno da sempre garantito massima privacy e relax. In questo contesto è più semplice mantenere le distanze e godersi il benessere. Insomma nel rispetto di tutte le misure di prevenzione con il massimo della sicurezza è possibile da domani alla fonte del benessere resort centro Messeghe di Castelpetroso. Tra le novità a disposizione della clientela la possibilità di effettuare massaggi all'esterno con sullo sfondo un panorama mozzafiato, un massaggio rigenerante tra profumi, colori e suoni di una natura incontaminata. Altra peculiarità della nuova stagione la piscina idrozen circondata da un giardino di ispirazione zen la nuova oasi di benessere, una vasca con panche e lettini idromassaggio con acqua riscaldata tutto l'anno. La parola d'ordine è all'aperto e a contatto con la natura e dal 16 giugno la riapertura dell'hotel porte aperte al benessere con la libertà di vivere una vacanza a 5 stelle in piena sicurezza. E allora adesso occupiamoci invece nuovamente di cronaca. Casa nostra, la sede di via Montegrappa a Campobasso dell'Associazione Persone Down è stata presa di mira dai ladri. Uffici a Soquadro è stato portato via un PC tra i più costosi. Sul posto la polizia scientifica. La fine del lockdown ha riaperto sì a quella normalità tanto desiderata, seppur è tornata con tutte le cautele del caso, ma ha inevitabilmente provocato anche la ripresa di quelle forme di reato di cui per un po' non abbiamo raccontato né abbiamo più sentito parlare. Come per esempio i furti. Così ieri 3 giugno, il day dell'apertura degli ultimi confini, sono tornati a colpire i balordi, avvezzi e razzie di ogni genere. Quindi nelle ultime ore un tentato furto in un negozio di pelletteria di via Cardarelli a Campobasso e il furto invece, ripugnante ed esecrabile, portato a segno nella sede dell'Associazione Persone Down del Molise di via Montegrappa. Il centro, casa nostra, di Giovanna Grignoli. Gli operatori questa mattina si sono ritrovati per approntare i progetti e davanti hanno invece trovato questa scena. In grasso sfondato, centro messo a su quadro, un pc tra i più costosi portati via e probabilmente qualcuno che deve averli disturbati prima di terminare la razzia. Le mascherine nascondono anche l'espressione di dolore che forse stiamo così avendo, perché è stato veramente duro vedere la porta sfondata, tutto quello che voi avete anche filmato. più che il danno materiale ci ha fatto male il danno morale. Immaginare che ci siano delle persone che se la prendono sempre con i più deboli, in questo caso sono le persone con sindrome di Down, che stavamo prevedendo una riapertura, che sarà faticoso perché per tanti, sia per i modi con cui dovremmo riaprire, per l'aspetto economico, e che invece questa situazione rallenterà questa riapertura facendo ovviamente un ulteriore danno a delle persone che sono tre mesi che non sono state abbandonate da noi perché il contatto attraverso le tecnologie c'è sempre stato, attraverso il telefono. Però loro erano abituati a vivere la loro giornata in questa sede, a crescere insieme agli operatori e adesso onestamente io ho difficoltà di immaginare in che maniera possiamo ricominciare. Furti riconducibili alla mano di qualche tossicodipendente sul posto è intervenuta la polizia con gli agenti della scientifica che hanno eseguito i rilievi riscontrando anche alcune impronte che potrebbero essere utili ad identificare l'autore o gli autori del colpo. Intanto, sostenere l'associazione persone down è possibile e si può fare così. Parte il ringraziamento immediato che io faccio a quanti ci sono stati subito vicino, hanno condiviso questo momento così per noi di dolore. Come possono aiutarci? Intanto continuandoci a sostenere moralmente per quello che facciamo, cioè sottolineando il fatto che stiamo andando per il verso giusto. E poi in questo momento mi viene in mente che forse una cosa possono farla, possono mettere una firma. È il momento della dichiarazione dei redditi, è il momento della destinazione del 5 per mille. Se volete darci una mano, firmate. A voi non costa nulla, per noi è un grande gesto di solidarietà. Nel servizio abbiamo fatto cenno al tentato furto in via Cardarelli a Campobasso, ad un negozio di borse e articoli vari. La polizia è andata sul posto dopo la segnalazione di un cittadino e ha scovato i tre malviventi che provavano a nascondersi dietro ad una macchina in sosta, bloccati. Due per cercare di scappare si sono poi scagliati con violenza contro gli agenti di polizia, aggredendoli e procurando loro diverse lesioni. Ambe due sono stati arrestati per resistenza pubblico ufficiale, tentato furto aggravato e possesso di arnesi atti allo scasso. Il terzo uomo, di origini marocchine, è stato invece denunciato soltanto per tentato furto aggravato in concorso. Due maestre di una scuola dell'infanzia dell'area matesina sono state indagate dai carabinieri di Boiano per maltrattamenti a danno dei minori. Bastava una minima marachella e finivano faccia al muro o chiusi nell'armadio per diverso tempo, ma i traumi di cui soffrono sarebbero dovuti anche a schiaffi, tirate di capelli, colpi inferti con oggetti afferrati a caso e trovati in aula da quelle persone che avrebbero dovuto educarli. Bambini, più di uno di età compresa tra i 4 e i 6 anni, che improvvisamente si sono ritrovati vittime di maltrattamenti in uno dei luoghi in cui invece si sarebbero dovuti sentire maggiormente protetti la scuola. Il quadro di quanto accadeva in un istituto dell'infanzia dell'area matesina è stato ricostruito dai carabinieri della compagnia di Boiano, coordinati dal capitano Edgar Pica. Coinvolte due maestre di 42 e 62 anni che ora risultano indagate per maltrattamenti aggravati su minori. Gli accertamenti condotti e conclusi nell'arco di due mesi dai militari dell'aliquota operativa della compagnia matesina sono partiti alla fine del 2019. Era il mese di dicembre quando alcune mamme davano l'allarme ai carabinieri. Secondo quanto riferito dall'arma, i genitori non potevano avvicinarsi né per un rimprovero né per una carezza che in cui i bambini scattava una reazione improvvisa. Istintivamente si proteggevano il viso, si mettevano in castigo da soli. Reazioni dovute, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, probabilmente anche tramite intercettazioni ambientali e registrazioni video, alle minacce che subivano. A quei bambini sarebbe stato anche vietato di parlare e alle intimidazioni seguivano appellativi come maiali e altri insulti. Alcuni dei piccoli sono arrivati a rifiutarsi di andare in quella scuola e sono diverse le famiglie che hanno optato per il trasferimento in un'altra sede. Il fascicolo è sulla scrivania del GIP, il quale nei prossimi giorni deciderà i passi giudiziari da compiere. Ma prima le due maestre avranno 20 giorni di tempo per chiedere di farsi interrogare, presentare una memoria o svolgere altri atti difensivi. Il PM quindi presenterà le sue richieste al giudice. La notizia ha creato inquietudine in tutto il Molise e riportato alla mente il precedente su cui indago la squadra mobile di Isernia, culminato con l'operazione Lasciateli Giocare e l'interdizione dall'insegnamento di altre due maestre della provincia di Isernia nel gennaio del 2019. Hanno suscitato polemiche le ordinanze dei sindaci di Termoli, Campomarino, Montenero di Bisaccio e Petacciato, con le quali si stabilisce il divieto di balneazione nelle spiagge libere. Il piano della sicurezza spiagge 2020, approvato dall'Aggiunta regionale del Molise lo scorso primo giugno, stabilisce tra l'altro che nelle spiagge libere il comune a provvedere alla sicurezza della balneazione. Gli enti devono garantire una balneazione sicura e tale obiettivo si realizza attraverso attivazione delle postazioni di salvataggio equipaggiate, secondo le disposizioni dell'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Termoli e l'ordinanza balneare della Regione Molise. La postazione si caratterizza per la presenza di un assistente bagnante munito di pattino di un'altra unità navale destinata al salvataggio. Il comune può individuare altre forme di presidio e assistenza alla balneazione, come il pattugliamento con mezzi acquatici realizzato dai vigili del fuoco nelle passate stagioni balneari. Oggi a Isernia invece ha riaperto il mercato settimanale per tutte le categorie merceologiche, una partenza a rilento per la scarsa affluenza di pubblico. Come procede? È il primo mercato, stiamo aspettando che si affascia un po' la clientela. L'importante era comunque ricominciare. Sì, sperando che si ricomincia bene, dopo due mesi e mezzo. Le è mancate Isernia? Noi veniamo da Maddaloni, ci siamo mancati Isernia e tutti gli altri mercati, perché poi facciamo Benevento, Piedimonte, Mondragone e sono chilometri che facciamo la mattina. Siamo stati fermi due mesi e mezzo, sperando che si riattivi un po' tutto il commercio. In bocca al lupo. Grazie, pure a voi. Con che spirito si riparte? Sicuramente con uno spirito positivo, perché siamo stati fermi tutto questo tempo, quindi la voglia di ripartire è tanta sia da parte nostra e vedo anche da parte della popolazione in questo momento. Percepisci timore da parte dell'utenza? Guarda, come primo giorno mi sembra di no, anche perché l'affluenza è normale, la gente si comporta bene rispetto alle distanze, come vedete la situazione è molto molto tranquilla, quindi è positiva come sensazione. Per voi è un nuovo inizio? Sì, dopo tutto questo tempo fermi è un inizio e diciamo che c'è l'emozione come del primo giorno di scuola, insomma. Grazie. Ancora è presto per dirlo, oggi è il secondo giorno, primo giorno ai Sergiano. Non posso rispondere perché è presto. Passate magari a luna. Con che stato d'animo sta ricominciando questa avventura? Sì, è un po' normale come prima. Buongiorno. Buongiorno. E come va? Sta andando così come lo vede il mercato? Un po' a rilento. Molto. Comunque ci hanno fatto iniziare però il primo giorno oggi sta andando a rilento, molto. Però l'importante era rimettersi in moto. L'importante era l'inizio, rimettersi in moto e andare avanti. E poi iniziamo, vediamo cosa succederà. Speriamo bene per tutti quanti. Hai sofferto per tre mesi? Tanto, tantissimo. Come me e come tutti quanti i miei coetanei commercianti, ambulanti, perché noi siamo ambulanti, siamo stati un po' messi da parte, come si vuol dire. Un po' abbandonati come categoria. Abbandonati come categoria, sì, sicuramente. Tutti quanti ti stanno mettendo un po' alla lista, tutti quanti assieme, però... È dura. È dura tantissimo andare avanti perché la gente c'è un po' paura, non lo so, spendono poco, mancano soldi, non lo so, un po' di tutto, tutto l'insieme. Noi ce la stiamo mettendo tutta, però è dura la salita. Cerchiamo di farcela, speriamo bene. In bocca al lupo, grazie. Crepi, grazie a voi, buona giornata. Sulla sua mascherina c'è scritto ripartiamo, un messaggio di speranza. Penso di sì, ho tre mesi dentro, chiusi. Io credo che partiamo, veramente, anche per tutto il mondo, tutto il Molise, tutti i serni che siamo stati dentro, è una cosa bruttissima, però speriamo questo virus che se ne è andato via. La prima volta abbiamo andato due o tre paio di roba, ancora è presto, forse. La gente nemmeno lo sa. Insomma, una partenza a rilento. A rilento, sì, abbastanza a rilento. Lei almeno è contento di essere ripartito? Sì, almeno cominciamo a ripartire e vediamo se possiamo cominciare a fare qualcosa, perché tre mesi di dentro è duro, è duro per noi. Tre mesi di fatturato persi? Perso, perso completamente, sì, ci hanno dato quel po' di contributo, ma che ci fai? Nella famiglia non riesci a tirarla avanti. Speriamo che la gente cominci a riuscire per il mercato, che si riabitui, perché ricominciare è duro, pure per la gente, perché la paura ci sta ancora. Speriamo bene, oggi è un po' negativo, però speriamo di inavvenire, siamo positivi. Come vanno gli affari? Buongiorno. Vale, malissimo. La gente ancora non esce per comprare, non lo so, non hanno i soldi, cercano sempre di risparmiare, noi siamo stati fermi tre mesi, però abbiamo perso molto sul prodotto primaverile, perché è saltata proprio la stagione per noi, quindi abbiamo riparenze a terra e non abbiamo potuto vendere. I fornitori non credo vi abbiano aspettato? No, i fornitori ci chiamano, vogliono i soldi, purtroppo le scadenze ci stanno, dobbiamo resistere, speriamo bene se ci danno qualche aiuto alla Regione, come hanno fatto la Regione Campania, ha stanziato 2000 euro a fondo perso per ogni commerciale, la Regione Molise è zero, non ho capito per quale motivo, speriamo bene, si riprende. altrimenti siamo costretti a chiudere, perché non ce la facciamo più. Concedeteci adesso un istante per fare degli auguri ad una affezionata telespettatrice, Pia Esposito, eccola qui, oggi compie 60 anni, allevano ovviamente gli auguri affettuosi di tutta la sua famiglia, buon compleanno a Pia anche da parte di Teleregione. Ed ora le previsioni. Previsioni del tempo di venerdì 5 giugno, l'alta pressione si indebolisce, lasciando spazio al transito di una perturbazione che nel corso della giornata porterà rovesce temporali, con fenomeni anche localmente intensi, in particolar modo su Molise centro-occidentale, rischio di locali grandinate, venti moderati, meridionali, in rotazione ai quadranti sud-orientali, mare molto mosso. Ecco le temperature sui maggiori centri della regione. Campobasso minima 13, massima 23 gradi. Isernia 13,22, Termoli 14,23, Venafro 14,24. È il momento dello sport, ci vediamo tra un istante. Una nuova tappa, la quarta del percorso dei Fiori d'Acciaio, che parte con un innesto di spessore nel roster a disposizione di coach Mimmo Sabatelli, confermato con pieno merito in sella al team Rosso-Blu, al pari dell'intero staff tecnico. Il primo colpo messo a segno dallo staff dirigenziale della Magnolia a Campobasso, porta il club del capologo di regione nel vicino Abruzzo a Sulmona, terra d'origine ed elezione della playmaker Valentina Bonasia, che vediamo in questa immagine, a prodare a Campobasso per un abruzzese, la cui collocazione geografica è prossima al Molise, è di fatto essere a casa. E questo aspetto emerge in maniera particolare proprio nelle prime impressioni da Magnolia dell'ultimo innesto Rosso-Blu. Disputare una stagione al Palavazzieri sarà senz'altro una sensazione particolare, ha detto la Bonasia. Nel mio percorso di giocatrice non ho mai sentito più di tanto l'appartenenza geografica ad un posto, perché comunque ero sempre lontana da casa. Essere nel progetto Magnolia ed essere molto vicina alla mia famiglia farà di me, per la prima volta nella mia carriera, un dramme, un'appartenenza anche territoriale. Calcio Serie D, parliamo del Vasto Girardi, il presidente Andrea Di Lucente, detta la linea per la prossima stagione, budget ridotto e idee chiare. Il presidente del Vasto Girardi, Andrea Di Lucente, detta la linea su come dovrà essere impostata la prossima stagione. Presto incontrerò Mr. Farina e i direttori Crudele e Marino Cipalermo, riferisce il numero uno degli altomolisani a Teleregione. Siamo nei dilettanti, i tesserati devono capire che in quanto tali non possono vivere di solo calcio. Mi aspetto che lo staff sposi la mia linea. Mr. Farina è un tecnico molto preparato ed ambito da altre squadre, credo anche di vertice, se resta con noi dovrà sposare le nostre idee. Per Di Lucente occorre un progetto totalmente diverso rispetto al passato, bisognerà, spiega, sudare per raggiungere gli obiettivi. Idee dunque chiarissime. Il presidente attende inoltre notizie dalla federazione per capire come muoverci per chiudere l'attuale campionato e gestire i mesi di marzo, aprile e maggio. Poi aggiunge l'inizio del prossimo campionato. La Serie D è un torneo semiprofessionistico ma al momento è abbandonato a se stesso. Le ultime priorità sono la possibilità, spiega, di giocare con i tifosi perché a porte chiuse non avrebbe senso e avere a disposizione il proprio campo. Parlerò con il Comune, conclude, per capire se i lavori andranno a concludersi e in quanto tempo ciò sarà possibile perché giocare un'altra stagione lontano dal nostro paese è impensabile. Allora questo era l'ultimo servizio, termina l'edizione del nostro telegiornale, ma l'informazione torna in diretta questa sera alle 19.30 con Valentina Ciarlante. Grazie intanto per averci seguito, arrivederci.